Tornerà da me, sempre, è sicura, Ambra Angiolini. Non ha paura di perdere o di parlare del suo rapporto con Massimiliano Allegri. In un'intervista a Vanity Fair ha raccontato l'evoluzione che l'ha portata tra le braccia di un uomo, capace di abbracciarmi senza stringermi. Per la prima volta lo fa senza reticenze, svelando il suo, bisogno di brillare, perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene. Quando finisce una storia hai sempre due possibilità, continuare a bombardare oppure dire, no, non è questo che ci meritiamo. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca, Francesco Forenga, e poi è stato rianimato da un altro uomo, Massimiliano Allegri, suo attuale compagno, che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare, rivela Ambra. Tra Max e Ambra tutto è iniziato con uno scambio di messaggi. E poi ci siamo incontrati. È arrivato l'unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa, sapere che tornerà da me. Sempre, ha concluso l'attrice.